Non sei una di quelle che parlano, parlano e non ascoltano mai Dobbiamo fidarci l'uno dell'altro, no, fammi vedere tutto il male che hai Molto bene, Fetty mi ha mandato la base Io di solito non scrivo mai senza una base, a meno che sia in un momento di grazia, di ispirazione particolare Mi piace ascoltare la base, farmi consigliare l'atmosfera del testo proprio a partire dalla musica Indirizza i miei pensieri, indirizza le mie parole, il mio stato emotivo di quel momento diciamo Non so se è un caso ma il nome del file è fotografia Mi tornano ascoltando questo beat immagini di fotografie ingiallite un po' Non so, mi ispira a guardare al passato Il genere diciamo che è classico, guarda molto al passato, un po' retro Anche se muovo al tempo stesso, come piace a noi Il telefono sicuramente non quanto la penna e la carta Però siamo schiavi dei nostri tempi, al giorno d'oggi si scrive tutti col telefono molto più immediato Non darmi la mano ma fa lo stesso, so che è come se l'avessi fatto Certe noti vedo buio pesto, il giorno no ricordo più di tanto Ti ricordi il primo appuntamento, mi ricordo dove mi hai portato Mi ricordo quanto ci ha sofferto, tengo a mente quanto ci ha imparato Non sono per nulla esperto di queste cose Però quanto basta per fare un provino, per registrare le strofie, ritornello Se ci piacciono le manderemo anche a uno studio di Pergamo per fare mix e master Farebbe a botte, io che non saprei darle La legge del più forte delle strade, ultime botte